Buonasera, mi chiamo Marizza, vengo dal Cile e vi preparo un dolce molto gradevole nel mio paese. Si chiama Pai del Limon, in italiano crostata al limone. In una terrina si mettono la margarina e lo zucchero e si amalgamano bene, si aggiungono le uova e si mescola. Si grattugia poi un limone e si unisce il tutto con mezza tazza di farina, il lievito e, amalgamando piano, la farina rimanente. Si continua a mescolare con la mano fino a quando si ottiene un impasto omogeneo. Si stende quindi la pasta in una teglia coperta con la carta da forno e si fora per evitare la dilatazione dell'impasto. Si mette nel forno riscaldato a 180 gradi per 10 minuti. Preparazione della crema. Si mettono gli albumi delle uova in una terrina e si montano a neve assieme allo zucchero. In una ciotola si versano il latte condensato, i tuorli delle uova, il succo di 3 limoni e si mescola bene. Si stende poi il contenuto sopra la crostata cotta al forno. Infine si guarnisce con la montatura a neve e si mette ancora in forno per altri 10 minuti. Buon appetito!